C'è il rischio di aiutare la persona a capire quali sono i rischi, partendo da quello che lui sa rispetto a quello che sta facendo, ciò che lui già riesce a riconoscere. In particolare coaching, la definizione che utilizziamo è una definizione che non deriva dall'inglese, quello che noi utilizziamo come traduzione è una traduzione francese, la parola è coachee, coachee vuol dire in francese carrozza, cioè il coach è una carrozza, una persona che ti aiuta a passare da una condizione in cui ti trovi adesso, una condizione chiamiamola A, che non è più sostenibile. Nel punto in cui sei non stai più bene, l'azienda, la persona, le organizzazioni non stanno bene in quel punto, vogliono fare un passo avanti, vogliono essere trasportate, ecco perché coach, verso un nuovo punto, una condizione B. Dove staranno meglio? Possiamo dire che questo passaggio da A a B è un processo di evoluzione, quindi io sono qui, lavoro con qualcuno che non rispetta le indicazioni di sicurezza, e io da questo punto voglio aiutare la persona o l'organizzazione a fare un'evoluzione, un'evoluzione verso il punto B dove starà meglio. Questo è ciò che fa un coach, questo è ciò che fa anche un safety coach, chiaramente. Quindi possiamo definirlo come un professionista che facilita il cambiamento. Allora, perché il coaching funziona? Guardate, è banalissimo, ma se voi vi concentrate su quello che non vi serve, alla fine avrete solo quello che non vi serve. Questo è il coaching, ecco perché funziona. Se volete qualcosa dovete definire esattamente cosa volete portarvi via, la lista della spesa. E il coaching fa proprio questo, ti fa concentrare su quello che ti vuoi portare via. In particolare poi il safety coaching, partendo da queste competenze, da questi principi, è una disciplina umanistica per migliorare i risultati di sicurezza sul lavoro nelle aziende attraverso delle competenze di coaching. Grazie a tutti.